Un confronto e un'intesa per dare la massima visibilità internazionale ai programmi di sviluppo e agli incentivi messi in campo e programmati dalla Regione Campania in ambito economico. È quanto proposto nel corso dell'Italian Business Summit proposto a Napoli da Geneva Group International e Campagnola Advisors alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive a Mediolepore e del presidente di Geneva Group International Claudio Cocca. Questa è stata veramente un'occasione importante perché avere tanti ospiti internazionali che sono interessati a conoscere l'economia della Campania e le imprese e avere la possibilità di offrire loro uno scenario avanzato come quello della Campania che attraverso i risultati che ha raggiunto nella spesa dei fondi europei che sono assoluta eccellenza avendo superato il 100% della spesa, cosa del tutta inaspettata per chi non si è reso conto del lavoro fatto in questi ultimi due anni. Grazie al presidente De Luca e all'amministrazione regionale e dall'altro la possibilità di mostrare le misure che concretamente l'amministrazione regionale sta portando avanti che sono da un lato sgravi fiscali, gravi fiscali intensi che riguardano la decontribuzione per le nuove assunzioni che in Campania è al 100%, che riguardano l'esonero dall'IRAP che con una recente legge abbiamo stabilito per tutti i nuovi investimenti in Campania. E il credito d'imposta sugli investimenti e poi sulla ricerca e sviluppo che sono due strumenti molto importanti per lo sviluppo della nostra economia regionale, per l'attrazione di capitali e di investimenti. Dall'altro gli incentivi finanziari che noi stiamo utilizzando a partire dai contratti di sviluppo, dagli interventi per le aree industriali non complesse che hanno registrato uno straordinario risultato in Campania e gli interventi per l'innovazione, l'industria 4.0 e l'economia circolare. Ci sono bandi specifici, iniziative che guardano all'investimento pubblico, all'intervento della regione e del governo come una molla per far crescere le imprese e il mercato in Campania. Stiamo lavorando intensamente su questo e credo che i risultati si stiano già vedendo. Siamo in preparazione altre misure come i contratti di programma regionali che presto saranno lanciati per fare in modo che la nostra economia abbia un quadro di crescita non solo immediato ma con opportunità per i prossimi anni di carattere strutturale. Ecco, noi riteniamo che gli investimenti e la crescita del capitale siano la cosa più importante anche per determinare una crescita del reddito, del mercato. Senza una struttura produttiva e un sistema industriale della Campania che si colleghi a quello nazionale e abbia una prospettiva di forte internazionalizzazione, noi non andremo avanti. Le misure che il Presidente De Luca e la regione stanno portando avanti riguardano esattamente questo obiettivo, quello di far crescere la capacità competitiva, la produttività del nostro sistema economico regionale. La qualità delle ditte qua, i prodotti e poi anche la situazione che sono delle opportunità interessanti perché in Italia c'è la crisi, ci sono delle opportunità che le banche non finanziano più e questa è una grande opportunità per private equity, investitori di Furi che possono entrare qua e comprare delle società. Io penso che la gente vede che Napoli ha cambiato, è una città bellissima, gente molto buona, il mangiare, la cucina è buonissimo così noi lo facciamo godere questo fine settimana.